Giornata conclusiva qui del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, siamo in compagnia di Lorenzo Lipparini che colpevolmente, io mi sono accorto di non aver mai intervistato, mai stato sugli schermi di LibriTV e quindi rimediamo subito. Lorenzo Lipparini, per chi non lo conoscesse, è un militante dell'associazione Enzo Tortola di Milano, radicale quindi di Milano, ma è anche stato, se non ricordo male, un ospidante alla segreteria di Radicali Italiani, qualche anno fa, se non ricordo male. E quindi con lui io penso di cominciare a parlare con questa intervista, gli chiedo ovviamente qualche commento alle dimissioni che in qualche modo hanno fatto un certo clamore di Claudio Barazzetta come membro del Comitato, una lettera che ha fatto un po' di clamore e polemiche. A te Lorenzo. Innanzitutto, forse qualche responsabilità ce l'ho anch'io perché oltre al Comitato, devo dire, spesso sono più a frequentare il fuori Comitato, quindi magari non mi si trova immediatamente reperibile. Guarda, il dibattito che ha introdotto questo Comitato nazionale sono stati citatissimi sia la lettera di dimissione di Claudio Barazzetta che l'intervento sul garantista di Angelo Bandinelli e in un secondo momento anche l'annuncio, prima in Comitato nazionale, poi è arrivato anche recapitato a tutti i membri del Comitato via email, delle dimissioni anche di Antonio Stango. Sono stati dei documenti che hanno aperto di fatto il dibattito e hanno caratterizzato moltissimi interventi. Hanno delle storie diverse, ma insomma tutte quante hanno alla base dei disagi, insomma, o comunque la constatazione di uno stato di grande sofferenza del movimento, che è una cosa che ormai riconoscono un po' tutti qua dentro e che può dirsi semplicemente aggravata da quello che è il perdurare della situazione di grave emergenza democratica, istituzionale in Italia e della sempre più grande difficoltà a fare fronte a questa situazione da parte del movimento radicale, che se guardiamo i dati delle iscrizioni, della capacità di autofinanziamento, delle stesse dimissioni che non vengono da persone che sono distanti dal nostro mondo, sono persone informate che hanno caratterizzato la vita di questo movimento. Ci devono fare suonare un campanello d'allarme sotto tutti i punti di vista sulla capacità economico-finanziare di fare fronte ai nostri impegni, di restituire i nostri debiti e di mantenere alta la militanza e la capacità di produrre iniziativa a partire dalle persone che hanno animato fino a queste settimane, fino agli ultimi anni, fa veramente specie vedere molte persone che ultimamente per una ragione o per un'altra si stanno allontanando. Io credo che queste responsabilità siano da ricercare innanzitutto nella produzione di iniziativa politica, non sono evidentemente solo le politiche di tesoreria che fanno il numero degli iscritti, perché poi le persone scelgono un'autonomia in base anche a quelle che sono le priorità che vengono segnalate. Claudio Barazzetta, tu mi dicevi, ha segnalato credo 27 motivi, molti di questi si perdono nella storia del nostro movimento. Mi ricordo l'organizzazione interna, la riduzione a uno dei soggetti, insomma sono discorsi che forse interessano più ai radicali, che una persona che non è a conoscenza di come funziona il mondo radicale, gli dice semplicemente che stima i radicali, magari li ha votati, quante volte è capitato, bisogna veramente perdere delle ore a spiegargli esattamente quali sono i termini di questi dibattiti che forse ci occupano anche troppo tempo e da troppo tempo, ci sono dei thread del forum di radicali italiani che si perdono nei decenni passati a discutere di queste questioni. Forse è il caso che iniziamo a dare anche qualche risposta a questi ormai troppi che stanno manifestando delle difficoltà, che hanno fatto sapere, lo stesso intervento di Angelo Bandinelli che comunque ha parlato della chiusura del movimento insomma ci richiama, come anche altri hanno detto, al fatto che noi non dobbiamo fare in modo che le nostre difficoltà diventino un alibi per continuare a procrastinare questa situazione che abbiamo vissuto per così com'è senza in realtà inventarci, avere la forza di partorire, di costruire qualche cosa di nuovo che magari proprio per aiutarci ad ottenere i nostri obiettivi storici, la riforma della giustizia, l'amnestia, uno Stato laico, liberale, riforme, diritti civili, non sia in realtà forse addirittura per assurdo una messa in discussione fino alla chiusura di quello che è l'esistente per dare vita e creare qualche cosa di più nuovo e più efficace. Ricordiamo che se guardiamo i numeri di bilancio, in questo momento, nell'intervento che ho fatto l'altro giorno lo ricordavo, noi ormai possiamo contare su pochissime risorse e sono quasi esclusivamente indirizzate al finanziamento della struttura, che poi alla fine sono due o tre collaboratori, sto parlando di radicali italiani, oggi siamo al comitato di radicali italiani, ma la situazione non è diversa come si sa e come si può immaginare anche nei vari soggetti. Poi recuperare una visione un pochino più complessiva anche di quello che cos'è, che è la realtà radicale, è importante, perché poi per forza di cose spesso facciamo confusione anche tra di noi, perché parliamo qua di radicali, ma in realtà siamo solo una piccola, come radicale italiane, una piccola realtà della grande galassia radicale che è complessa, d'altronde se non lo facciamo qua non si fa da nessuna parte, insomma è un po' un gatto che si morde la coda, però ecco quelle dimissioni che ricordavi tu, quelle lettere, ci fanno capire una volta ancora di più se non fosse stato chiaro che questo dibattito infinito e pluridecennale deve avere uno sfogo che ha bisogno di risposte a questo punto veramente urgenti e immediate. Adesso c'è una mozione sul tavolo. Infatti volevo anche chiederti, parliamo della mozione, questa mozione che pone al centro, la mozione della segretaria pone al centro, diciamo, dell'iniziativa, del movimento, rappresento il messaggio di Napolitano alle Camere. Sì, è un ribadire, è un obiettivo che ci siamo dati negli ultimi anni. Certo c'è da dire, ho ascoltato adesso in modo veramente con attenzione e condivisione l'intervento di Giulia Crivellini che ha ricordato che insomma continuiamo a parlare dei sintomi ma tendiamo a parlare di meno dell'antidoto e vuol dire che noi ci dobbiamo interrogare non solo di descrivere la situazione gravissima che vive il nostro Paese ma abbiamo la responsabilità di identificare delle strategie efficaci per riuscire a conoscere e intervenire sull'esistente. Ecco, la mozione sicuramente ribadisce uno degli obiettivi, l'obiettivo rispetto all'ultimo congresso dei radicali italiani, non il solo, per la verità, però sicuramente un obiettivo centrale. Forse dovremmo lavorare un po' di più invece sul nostro impegno, sul personale politico, sull'approfondimento e sul ragionare su delle prospettive che possano però avere degli sfoci efficaci. In questi giorni si è parlato di una possibile nuova avventura elettorale per portare dei radicali che si occupino di queste tematiche all'interno del Parlamento e riportarli. Insomma, c'è da dire che forse la strada elettorale, elettoralistica, il partitino, gli accordi non sono la via ultimamente che si è rivelata per noi più efficace e forse nemmeno la più desiderabile. In fondo, possiamo tranquillamente, nessuno ci impedisce di fare un importante lavoro fuori dal Parlamento, con i parlamentari e forse anche con la credibilità che ti può dare il fatto di non essere un soggetto della contesa elettorale. Insomma, con tutto quello che sappiamo dei limiti dell'informazione e della democraticità delle elezioni che abbiamo denunciato in più di un'occasione a partire dalle elezioni locali Lombardia, dalle firme false in tutte le occasioni elettorali. Se crediamo che elezioni che non sappiamo quando saranno possano essere, quindi dovremmo attendere il primo passo per rispondere a questa situazione di crisi che si ricordava prima, forse non è una risposta così forte né così immediata. Quindi, insomma, una risposta... Mi vale di sentirti un po' perplesso. Non basta quello. Io ho provato a rilanciare, ce l'abbiamo già in mozione, ma noi facciamo tante emozioni e poi, compresa queste, che poi è un'emozione che ricorda dei principi su quali siamo, credo, tutti d'accordo, però che sugli impegni è un po' diverso. Nel senso, quante volte abbiamo scritto e ribadito certi concetti in queste emozioni e poi non se ne è saputo nulla. Noi veniamo fuori da un congresso che ha segnato tutta una lunga strada di iniziativa popolare come chiave per il rilancio. E' certo che noi abbiamo, si è detto, abbiamo anche fin troppe idee e non si possono evidentemente portare avanti tutte insieme. abbiamo anche più dirigenti che direzione perché poi bisogna anche selezionare le priorità e a questo punto bisogna più che altro lavorare, secondo me, su un pacchetto di proposte che ci possa vedere impegnati, così come si era detto all'ultimo congresso, in primavera ad aggregare cittadini e associazioni in realtà che possano lavorare con noi ad un progetto di laicità e di rilancio degli strumenti usando gli strumenti che ci sono di iniziativa popolare già esistenti ma anche nel processo di revisione per esempio del titolo quinto della Costituzione ma in questo momento di definizione della nuova legge elettorale della nuova struttura istituzionale di nuovi strumenti per salvaguardare quelli che abbiamo mantenendoli utilizzandoli ma anche prevenendoli di nuovi. Noi abbiamo tantissime cose per esempio a Milano grazie all'opera di Marco Cappato della lista costituente per la partecipazione in cui l'associazione Tortora è stato un elemento fondamentale di organizzazione di questa esperienza per andare a partecipare alle elezioni di secondo livello della città metropolitana che ha sostituito la vecchia provincia di Milano però grazie al lavoro di tanti compagni siamo riusciti a mettere nel nuovo statuto il principio dell'elezione diretta del nuovo sindaco della città metropolitana ma soprattutto un grande numero di istituti di partecipazione in iniziativa popolare referendum consultivi delibere consultazioni che si potranno attivare anche via internet con la partecipazione dei cittadini e che quindi a questo punto bisognerà fare vivere è chiaro questo è un esempio di per esempio quando si riesce a trovare un pertugio anche in realtà più decentrate più locali però dove il lavoro ti può veramente far cambiare la realtà perché era ci voleva poco per far sì che tutto questo non ci fosse semplicemente che la partecipazione fosse meno fosse più poi le città metropolitane rischiano di essere l'ennesimo fallimento l'ennesimo ganglio dove la partitocrazia spende i propri soldi e assegna le proprie posizioni di potere senza che ci sia un controllo dei cittadini il fatto che abbiano cominciato proprio con delle elezioni di secondo livello cioè che alle quali partecipavano solo dei rappresentanti già eletti nei comuni senza copertura mediatica insomma già ti fa capire come sono partite male però queste fanno parte anche delle prossime iniziative noi abbiamo domani presenteremo anche al pubblico alla stampa il ricorso contro queste elezioni che sono state appunto a nostro avviso anticostituzionali e andiamo avanti così un po' per tentativi in vista di una mobilitazione secondo me in primavera che ci deve vedere impegnati perché insomma magari abbiamo pochi soldi magari abbiamo poche energie ma è solo mettendoci in gioco e rilanciando che possiamo trovare quel sostegno che viene dalla condivisione delle idee perfetto allora grazie a Lorenzo Lipparini vi invitiamo a seguire anche le altre interviste che abbiamo fatto qui al comitato grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti